Come arriva questa amministrazione a fine 2010? Arriva in forma se consideriamo che un paio di settimane fa qui quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale avevano cercato di darci la spallata. Ricordiamo che avevano votato per lo scioglimento del Consiglio Comunale, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quindi da questo punto di vista arriviamo forti, però si arriva a quest'ultimo dell'anno con una grande malinconia, una grande amarezza. È stato un anno terribile per il mondo e anche per Napoli. Poi da ultimo anche questa mareggiata senza precedenti, almeno a memoria di chi vive la città da diversi decenni, ha anche sconvolto ulteriormente la nostra comunità. Però devo dire che abbiamo messo in campo una serie di azioni fondamentali per resistere e per ripartire. Quindi si è lavorato molto e con una nota anche di apprezzamento sulla tenuta sociale della nostra città, che non era scontata. Io credo che questa città ha dimostrato in questi mesi tutta una grande forza e anche una grande rete di solidarietà, che non bisogna mai darla per scontata, soprattutto in questi momenti così drammatici, anomali della storia dell'umanità.